ecco siamo i parioli proprio centro strada di archimede ai parioli e questa è la monnezza che sono giorni che così non passa nessuno e le tasse per la monnezza costano sempre di più monnezza roma continuiamo a pagare lama mi raccomando qua ai parioli figuriamo in periferia cosa sta succedendo vai qualtieri risolvi la situazione a stavo facendo la differenziata è passato il camion nella nettezza urbana purtroppo non avevo il telefonino per riprendere ma mia testuali parole ma che ancora va a differenziare